buongiorno buongiorno amici ed amiche del canale buongiorno dal vostro nick juve un grande abbraccio mi raccomando al solito prima del video iscrizioni dai me ne mancano pochissimi per 1800 iscritti quindi ho quasi raggiunto un altro traguardino grazie a voi ovviamente quindi like iscrizione e condivisione seguendomi anche su instagram e su tiktok l'immagine di copertina di oggi è perché in questi giorni lo sapete tranquillamente da le tv da qualche blog da i giornali si stanno vociperando parecchie situazioni ok di questo vorrei sapere il vostro punto di vista perché comunque una cosa che da un certo da una certa ottica mi mi intriga perché perché comunque ha un qualcosa che a me non quadra più di tanto magari direte voi nick non quadra a te ma per noi è molto più chiaro evidente di quello che tu possa spiegarci o dei tuoi pensieri oppure anche a noi non c'è chiara come non è chiara a te oppure è evidentissima la cosa si sta vociferando in questi giorni della figura che per la juventus è stata un mito un'icona una leggenda del calcio mondiale della figura di michelle platini per la presidenza della juventus con annessi e connessi giorgio chiellini antonio conte sulla panchina insomma un ritorno al passato nelle vesti importanti come quella di un presidente in qualità di michelle platini e nelle vesti importanti dell'allenatore di quello che dovrebbe portarti a un futuro importante italiano ed europeo sulla panchina nelle facenti specie di antonio conte adesso mi domando e dico una cosa in tutto quest'anno anzi nell'anno passato c'è stata una corsa continua alla pulizia totale di quello che era l'ambiente juventus quindi si è eliminato andrea agnelli poiché aveva instaurato troppi conflitti contro la figc contro l'uefa quindi contro gavina per la richiesta del risarcimento danni per quel che riguarda lo scudetto di cartone contro l'uefa poiché si era messo insieme a florentino perez e la port presidenti e presidenti giusti rispettivamente di real madrid e barcellona a capo di una superlega e quindi lo abbiamo eliminato poiché stringendo la mano a tutti patteggiando con tanti dicendo bene noi prendiamo le distanze da queste persone perché hanno sbagliato e vogliamo tornare ad un clima sereno e pacifico in accordo in cordialità con tutto e tutti apro parentesi chiudi chiudo parentesi mi va benissimo ok mi sta bene vogliamo ripianare vogliamo ripartire da zero perfetto non fa una piega ci sono tante cose che non mi piacciono ma voglio dire andiamo così andiamo avanti voltiamo pagina non fa una piega e voi mi riportate parliamo sempre di voci presunte come al solito siamo a metà anno quindi è normale un presidente che è michelle sarebbe michelle pratini che con uefa c'è per in e infantino fifa proprio non si stanno qui proprio potessero si massacrerebbero a vicenda e io da juventino dovrei accettare un'immagine pulita come platini che non un'immagine perché non sia pulita l'immagine di platini pulita nel senso che comunque hanno parecchi attriti parecchi attriti nei confronti di uefa e fifa quindi io dovrei accettare platini che sarebbe ben visto ma proprio ben visto soprattutto dall'uefa e dovrei accettare antonio conte che un allenatore in viso soprattutto a quelli che sono le competizioni europee dove ha dimostrato lasciando stare la nostra parentesi ok caccio anche quella con l'inter col tottenham col celsi eccetera 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 di non essere in grado di fare un cazzo ok e allora mi domando e dico se tutto questo un progetto architettato era quello di ripulire la juventus in maniera che tutti ci lasciassero in pace perché poi dovrei andare ad essere d'accordo con l'idea di avere michel platini come presidente della juventus perché sono un masochista perché proprio necessito che qualcuno mi debba rompere i coglioni ogni anno quando per una cosa quando per l'altra deve essere tassativo non posso mettere alessandro del piero come presidente che ancora ancora ad oggi non ce l'ha con nessuno non ha avuto liti pesanti o non ha detto a nessuno io rimarrò sempre io mentre chi è a capo della uefa e della fifa non sarà mai nulla posso richiedere dei personaggi di spessore morale tecnico umano diversi o è una bestemmia posso richiedere così pur parler come si sta facendo oggi in questi giorni sui giornali sulle televisioni su alle radio posso richiedere un presidente nella facente funzione di come alessandro del piero immagini icona leggenda della juventus è un allenatore nelle facenti funzioni non so di un zinedine zidane con un progetto tecnico adeguato con dei calciatori importanti sarebbe così tanto arrivare a questo ma soprattutto per continuare questo filone che poi ferrero scanavino john elkan avete detto a noi un'immagine della juventus che non è in disaccordo con niente con nessuno chi chi meglio di un del piero in presidenza di un zinedine zidane in panchina potrebbe continuare su questo filone di etica di morale di lealtà sportiva di capacità tecniche e di dialettica e di personaggi di spessore anche morale chi meglio di questi due ovviamente questi due come potrebbero essere altri ma non i due che vi ho menzionato platini e conte che proprio siamo agli antipodi rispetto a quella ricerca che voi ci avete fatto passare per ultima la ricerca di una juventus tranquilla serena che pensi solo al campo alle cose da pensare e poi magari faccia il resto un carissimo amico carissimo amico mi aggiornava su una cosa fondamentale un carissimo amico che non cito perché spesso qualche collega nonostante la sua grandissima preparazione sul campo sportivo calcistico nei confronti nei riguardi della juventus non l'ha visto di buon occhio perché purtroppo quando una persona è più capace più in gamba spesso gli altri non lo vedono di buon occhio invece lui sa di chi sto parlando e colgo l'occasione per salutarlo e ringraziarlo mi faceva anche presente che non è comunque da escludere che alla fine della stagione sportiva giugno la juventus non possa essere ceduta o a un fondo arabo o addirittura un fondo russo quindi anche questa forma magari di pulizia totale di globalizzazione nel campo di facciamo pace con tutti potrebbe essere anche benissimo per un passaggio del testimone ad altri che ne prenderanno possesso o chissà entreranno in società come azionisti di ignoranza ringrazio questo carissimo amico che mi ha aggiornato anche su queste informazioni direttamente da quella diciamo di torino mi raccomando iscrizione like e condivisione un grande abbraccio al prossimo video ciao